Bella a tutti ragazzi qui Teddy, prima di iniziare con il video vi ricordo che questi sono i miei social ufficiali tutti i link sono in descrizione in aggiunta, cosa molto importante, patreon.com slash taddi93 patreon è un sito dove con un abbonamento mensile potete supportare il canale economicamente con un abbonamento fisso, ovvero ci sono vari tier che trovate nella sezione abbonamento ci sono 6 tier al momento, ognuno con un prezzo fisso mensile ma con molti molti bonus link sempre in descrizione per valutarli Bella a tutti ragazzi qui Teddy, benvenuti a un nuovo video qui sul canale allora ho abbassato leggermente il gain del microfono quindi fatemi sapere se si sente meglio o si sente peggio rispetto a prima il gain praticamente sarebbe un boost della potenza del microfono però ovviamente aumenta anche la sensibilità dell'audio e quindi magari la voce si distorce un pochino eccetera fatemi sapere con questa configurazione invece com'è secondo voi vedendo dai livelli di registrazione sembra essere comunque normale, buono però fatemi sapere insomma, chiedo a voi allora, prima di incominciare con il video innanzitutto vi ricordo che a fine mese dovrò fare un trasloco e quindi sto già iniziando a preparare un po' di cose e appunto poi dovrò comprare una scrivania perché non c'è la scrivania dovrò rimettere internet perché non c'è internet quindi verso fine mese, inizio luglio dovrò prendere un'altra pausa spero non lunga ovviamente per problemi logistici come appunto potete sentire però ovviamente per l'off season cercherò comunque di essere attivo in qualche modo magari tramite telefono, live da telefono, non lo so insomma però ecco, questo è quanto purtroppo il trasloco è giusto giusto quando c'è l'off season o comunque l'inizio dell'off season e vabbè, purtroppo non posso farci nulla però rimarrò comunque attivo in qualche modo diciamo destreggiandomi un po' con gli strumenti possibili seconda cosa ovviamente ringrazio tutti i nuovi iscritti ringrazio anche ovviamente quelli vecchi non preoccupatevi però ringrazio sempre tutti per i like, i commenti eccetera eccetera ovviamente non l'ho detto negli ultimi video però un like fa sempre comodo attivate la campanella per la notifica di quando pubblico un video e ovviamente l'iscrizione al canale se non lo avete ancora fatto quindi questo è quanto ovviamente più commenti ci sono, più like ci sono più l'algoritmo di youtube mi mette in alto nelle ricerche più persone raggiungo e ovviamente più persone mi guardano quindi se pensate che il mio contenuto sia abbastanza informativo e che debba essere visto da più persone non costa veramente nulla anche perché è gratis per il momento almeno per mettere like, iscriversi al canale e commentare è gratis fino a almeno fino ad oggi è gratis però ecco se potete farlo mi fate un grosso favore detto questo allora vi ricordate quando i sacramento kings volevano prendere Bradley Bill e molti di voi in privato mi hanno mandato delle potenziali trade con sacramento ma nessuno di voi aveva inserito Keegan Murray tra le potenziali partenze e io vi dissi ragazzi guardate che sta trade non si fa uno perché Bill c'ha la no trade clause due perché ovviamente Washington vuole Keegan Murray e infatti appunto i reports dicono che sacramento non voleva inserire Keegan Murray all'interno del deal for Bradley Bill che fa anche rima non mi sono svegliato Eminem stamattina però non lo so volevo dirvelo allora ovviamente come vi dicevo Adamo è pronto con la dinamite per tutta Portland tra l'altro ho messo il post su Instagram appunto il photoshop di Joker che fa saltarinare all'ospedale con la faccia di Adamo e non è il non parliamo oggi di Blazers o meglio parliamo ma non ne parliamo perché in realtà è un'altra notizia che voglio commentare la leggete dal titolo Gary Trent Junior ha optato per la sua opzione da 18 milioni e mezzo strano pensavo uscisse e andasse da qualche altra parte invece no ha optato per restare a Toronto un altro anno non è detto che rimanga e non venga tradato però appunto ha accettato la sua player option poi Poltel preferisce non rimanere in una situazione di rebuilding chi cazzo è per dire una roba del genere non lo so quella merda di Kuzma ha rifiutato come pronosticabile la player option tra l'altro l'account della stalker possiamo dire così di Zion Williamson la come dire la porno star che ha minacciato Zion di rilasciare il sex tape con appunto tra lei e Zion è stato sospeso il suo account twitter quindi Adamo ha alzato la cornetta sicuramente tra l'altro vorrei ricordarvi che il revenge porn perché in questo caso si parla di revenge porn ovvero di sostanzialmente minacciare un'altra persona di rilasciare un contenuto sessuale per ripicca è reato quindi lei sostanzialmente si stava scavando la fossa da sola senza rendersene conto comunque niente chissà se vedremo mai questo sex tape con Zion rimaniamo in attesa di ulteriori novità circa eventuali link che appunto gireranno sicuramente in rete una volta che questo sex tape forse sarà rilasciato però la notizia di oggi è che Mark Stein impazzito completamente si sveglia la mattina e dice fermi tutti Paul George sul mercato esplode e mezza NBA ovviamente perché nessuno si aspettava che comunque i Clippers potessero pensare di scindere il duo ambulatorio ambulatoriale Kawhi Leonard e Paul George perché a quanto pare come dice Mark Stein i Clippers stanno raccogliendo informazioni sul trade value di Paul George e stanno realmente considerando l'idea di smantellare il duo appunto spedaliero Kawhi Leonard e Paul George questa è la notizia principale di questa mattina e ovviamente si scatenano i rumors perché perché appunto con la notizia di prima che Portland è a quanto pare vuole dare retta a Lillard e quindi vuole costruire una squadra a titolo scambiando eventualmente anche la pick numero 3 cosa che ripeto se succede e i Blazers non vincono il titolo Adamo proprio fa un ride aereo di quelli pesanti su Portland ovviamente si scherza sempre ovviamente si scherza sempre tutto ingigantito sono tutti iperboli tranquilli nessuno fa nessun ride aereo nessuna città però ecco per chi magari non mi conosce non mi segue da tempo magari pensa che sia veramente così ovviamente scherzo esagero quando dico queste cose però capite bene che avendo la scelta numero 3 e dopo anni di fallimenti e di delusioni uno si aspetta che finalmente una franchigia dica vabbè basta ci siamo rotti i coglioni non vinciamo nulla ci proviamo ci riproviamo ci strariproviamo e non ce la facciamo a sto punto Dame guarda ti vogliamo bene però adesso è ora che noi ripartiamo tu vai a vincere da qualche parte almeno ti mandiamo dato che ti vogliamo bene dici dove vuoi andare e noi cerchiamo di facilitare la trade comunque cercando di guadagnarci qualcosa è stato bello baci e abbracci salutaci la moglie e i figli però purtroppo dobbiamo andare avanti questo forzare la mano di Portland e ovviamente Paul George è il giocatore ideale Paul George è il giocatore che i Clippers a questo punto vogliono scambiare e ovviamente Portland in ottica di comunque tornare competitiva e di rilanciare la franchigia insieme a Lillard è il tipo di giocatore ovviamente che rispecchia perfettamente le caratteristiche di una superstar di un giocatore che a fianco a Lillard ovviamente sarebbe molto interessante da vedere e poi ovviamente ci sarebbe tutta una squadra da completare però ovviamente la potenzialità di poter scambiare e ci sono gli asset a Portland per arrivare a Paul George insomma è un bel un bel inghippo che andremo a sviscerare nel video di oggi penso che il video di oggi sarà molto lungo quindi preparate popcorn acqua fate tutti i riti che dovete fare e hear me out perché la situazione di Paul George anche qui qualcuno può dirmi vabbè ma allora c'è Paul George si mobilita mezza NBA vanno via otto pic al primo giro e calmi perché la situazione è salariale di Paul George ed è il motivo per cui i Clipper stanno raccogliendo informazioni sul trade value è che secondo me neanche loro hanno ben in mente cosa vale Paul George perché perché ci sono ovviamente tanti discorsi da poter fare e da dover fare su Paul George allora innanzitutto partiamo dal suo contratto perché appunto se noi valutiamo solamente il nome del giocatore svincolandolo dal contratto che ha e dall'età che ha chiaramente Paul George è una superstar è uno dei primi 15 giocatori NBA non credo di dire una cafonata in questo momento però ovviamente i giocatori devono andare in campo che conoscendo Paul George non è così scontato i giocatori hanno un contratto e quello di Paul George è molto molto particolare perché ovviamente per chi non si ricordo per chi non sa e non conosce il contratto di Paul George Paul George ha un anno effettivo di contratto Paul George entra nella stagione 23-24 a 45 milioni e 6 e poi ha una player option da 49 milioni in sostanza però poi sarà unrestricted free agent quindi i casi sono due anzi sono tre uno Paul George l'anno prossimo accetta la player option e rimane un altro anno nella squadra in cui sarà Paul George l'anno prossimo rifiuta la player option e diventa unrestricted free agent immediatamente oppure Paul George estende con la propria squadra includendo anche ovviamente l'inizio del contratto 24-25 però qual è la fregatura di questo contratto? beh la fregatura di questo contratto è che Paul George non è assolutamente vincolato nel rimanere in squadra che siano i Clippers o che sia la prossima squadra eventualmente se dovesse appunto essere scambiato perché? perché ovviamente avendo la player option lui può dire no io non voglio rimanere voglio sondare il mercato free agent voglio voglio andare voglio vedere cosa mi offre la NBA voglio vedere appunto la situazione di altre squadre che magari sono più favorevoli di quella appunto in cui sono adesso che siano i Clippers o che sia un'altra squadra e quindi sostanzialmente Paul George ha un contratto annuale ad oggi il rischio che Paul George comunque non rifirmi con la squadra in cui sarà l'anno prossimo ripeto che siano i Clippers se sei un'altra squadra e che ovviamente rifiuti la player option è molto alta quindi sostanzialmente le squadre dovrebbero prendere un giocatore di 33 anni 34 praticamente che ha grossi problemi a rimanere in salute che è spesso infortunato che per carità quando gioca è un mostro e lo sappiamo però ovviamente la longevità e soprattutto se tu sei una squadra da titolo hai bisogno di averlo in campo perché se sei una squadra da titolo e questo non gioca mai come Kawhi fa pure rima ripeto non mi sono alzato Eminem stamattina però è un grosso rischio è un forte rischio cioè oramai Paul George non è un giocatore come Zion di 22 anni che puoi dire vabbè però dai c'ha 22 anni tutto sommato se si mette ancora a posto fisicamente eccetera eccetera possiamo recuperarlo e Paul George oramai ha una come dire una nomea di essere infortunato oramai sono anni che si infortuna sempre ai playoff in particolar modo o si fa male al gomito o si fa male alla gamba e si fa male a quello a quell'altro quindi non è più un fatto nemmeno di sperare nella salute di Paul George certo se lo vai a tradare se lo vai a scambiare se lo vai a prendere ovviamente la speranza è che il giocatore rimanga sano di certo le eventuali squadre che probabilmente staranno chiamando i Clippers per sapere appunto di come valutano Paul George e di quanto vorrebbero indietro è normale che quel tipo di franchige sperino ovviamente che il giocatore rimanga sano di certo non vai a sperare che il giocatore non sia sano quindi detto questo qual è il valore di un giocatore di 33 anni 34 in scadenza di contratto a tutti gli effetti in scadenza di contratto massimo che ti va bene un altro anno di contratto ripeto accetta la player option perché 49 milioni magari non glieli dà più nessuno quindi lui accetta la player option e ti rimane un altro anno a roster però poi diventa restricted free agent può andare dove vuole quindi per un giocatore di 1 massimo 2 anni di contratto però ben oltre il prime quindi si parla di un giocatore in declino comunque diciamo magari Paul George non è un cadavere ok non è un giocatore a fine carriera però comunque non è più nella sua brillantezza fisica diciamo almeno l'età dice questo poi abbiamo l'esempio di Lebron ad esempio che fino al pre-infortunio della caviglia sembrava ancora comunque fisicamente prestante Paul George è più in quella direzione è più nella direzione del declino che nella direzione della crescita del mantenimento fisico in aggiunta era sempre infortunato prima adesso che ha 34 anni 33-34 anni c'è anche da quel punto di vista da discutere in più potrebbe andarsene potrebbero non rifirmare ovviamente il valore qual è? il valore non è altissimo secondo me poi magari volano 8 pic al primo giro e chiedo ammenda sapete che quando io sbaglio chiedo sempre scusa faccio ammenda dico non ho capito non ho capito un cazzo scusatemi veramente non ci ho capito niente perdonatemi ma io credo ad oggi che considerate tutte le questioni appunto tra lunghezza del contratto tipo di contratto tipo di giocatore infortuni del giocatore e ovviamente il costo salariale del contratto perché non si parla di 20 milioni si parla di 45 milioni cioè di un terzo del salary cap quindi è un grosso rischio comunque come dire stanziare un terzo del salary cap per un giocatore potenzialmente infortunato comunque spesso infortunato che nel momento topico ovvero i playoff spesso si fa trovare infortunato non al 100% e un terzo del del salary cap con una player option addirittura maggiore addirittura quasi a 50 milioni su un salary cap di 143 e ancora più di un terzo e ovviamente il giocatore avrà 34-35 anni l'anno prossimo quindi è un grosso rischio per la franchigia che va a prenderlo è un grosso rischio ovviamente ripeto e sottolineo per le sue condizioni fisiche perché sono sempre state abbastanza ballerine chiamiamole così diciamo così quindi quali squadre potrebbero andare a prendere Paul George e secondo me qual è il valore di Paul George perché comunque nel senso rimane una superstar a tutti gli effetti quindi il valore è basso non vuol dire che sia nullo ok soprattutto Paul George a differenza ad esempio di Bill non ha la no trade clause quindi Paul George se i creeper si dicono vai a San Antonio lui prende e va a San Antonio punto cioè non è come Bill che può dire no no trade clause non voglio andare e Paul George prende e va un po' come fece San Antonio con Kawhi vai a Toronto sembrava che gli stessero facendo un torto in realtà poi ci ha vinto un titolo però ecco quelle sono le cose buffe del mercato NBA però passando alle trade vere e proprie quindi abbiamo fatto l'incipit l'introduzione di quello che penso io ovviamente del valore di Paul George ripeto vedendo il contratto vedendo il salario del contratto ma soprattutto vedendo il tipo di giocatore e soprattutto la sua storia di infortuni è normale che le altre franchigie secondo me tireranno un po' indietro le richieste o meglio avranno un pochino il braccino perché non andranno a ovviamente a surclassare i Clippers di cose buone cercheranno di trattenere il più possibile ovviamente e i Clippers se vogliono veramente tradare Paul George perché pensano che oramai con Kawai non sia più fattibile come cosa vincere oramai si sono arresi all'idea che evidentemente con due giocatori in giuri prone non vanno bene per vincere il titolo ma va mi verrebbe da dire e ovviamente i Clippers non possono alzare alto i Clippers non possono spararla grossa nonostante però i Suns come dicevo in un vecchio video comunque i Suns hanno un big free della madonna ripeto sulla carta c'è tutta una squadra da fare eccetera però ovviamente ad oggi sulla carta se uno mi dice Bill, Booker e Durant si trema un pochino a Ovest cioè nel senso perché se tutto funziona se tutto si amalgama e cazzo sono imbattibili parliamoci chiaro ovviamente è un grosso se certo però ovviamente adesso i Clippers che sono qui a tradare Paul George o comunque a voler diciamo tante volte si è sentito che le franchigie aprono all'idea di tradare qualcuno però lo fanno solo per valutarne il mercato se non ricevono offerte particolarmente buone non accettano quindi non è detto che Paul George venga scambiato però il fatto che i Clippers si aprano all'idea di valutarne il mercato significa comunque che sotto sotto ci stanno pensando e allora noi andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le destinazioni di Paul George ovviamente le destinazioni di Paul George sono tutte le 29 franchigie chiaramente perché? perché ovviamente un giocatore come Paul George fa comodo a tantissime franchigie ovviamente a in particolar modo franchigie che certamente vogliono competere per il titolo vanno a sperare che Paul George rimanga sano se Paul George rimane sano allora è un grosso upgrade per andare a cercare il titolo quindi in maniera un pochino troll vi ho messo anche la storia su Instagram però vi ricordo che Eitan più Pain per Paul George è fattibile salarialmente entro il primo di luglio quindi sperate che non accada mai ovviamente non accadrà mai però era giusto per farvi per farvi vedere che a livello salariale si può fare e niente immaginate se Paul George dovesse andare per qualche motivo ai Suns nel senso Booker Bill George Durant e poi per carità penso i magazzinieri come a fare la panchina però salarialmente è possibile ovviamente non credo che andrà a Phoenix e non credo cioè ovviamente il pacchetto tutto sommato è anche abbastanza leggero e sicuramente non credo che i Clippers vogliono fare un favore a Phoenix mandato anche Paul George dopo che hanno preso Bill però salarialmente è fattibile io ve lo dico ridete ma pensateci meditate su questo su questa immagine perché si può fare sulla carta è fattibile detto questo andiamo invece su quelle che penso potrebbero essere delle trade un pochino più fattibili sappiamo che Minnesota è disperata sappiamo che Minnesota è molto disperata a livello di contendere e sappiamo che Towns è sul mercato siccome sia Minnesota che i Clippers comunque sono disperati potrebbe essere che Minnesota metta sul piatto Towns e dica Minnesota guarda che dica i Clippers guarda io non ce la faccio più devo ricostruire o comunque devo cambiare completamente mentalità di squadra a me Paul George farebbe comodo perché comunque secondo me è un buon mentore per Edwards fitta meglio con il tipo di squadra comunque insomma George più Gobert a livello difensivo è sicuramente un duo esterno lungo interessante a livello difensivo guarda ti metto sul piatto Towns ricordo che Towns dall'anno prossimo scatta il super massimo salariale quindi va a 50 milioni però è un giocatore di 26-27 anni quindi i Clippers secondo me sarebbero più che contenti di scambiare George per ricevere Towns Prince ovviamente andrebbe a Minnesota per questioni salariali e poi due seconde perché due seconde perché ovviamente il valore di Towns è comunque più alto secondo me rispetto a quello di Paul George nonostante il contratto sceno diciamo che si pareggiano cioè Towns ha un contratto più brutto ma è più giovane George ha un contratto più breve ma è più forte quindi alla fine secondo me è uno scambio uno a uno tutto sommato i Timberwolves sono disperati vogliono cambiare e i Clippers anche loro apparentemente vogliono cambiare poi per Minnesota sarebbe un gigantesco rischio però perlomeno possiamo vederla in questo modo scambiando Towns in questa maniera evitano poi di pagarlo 50 milioni all'anno per i prossimi 4 anni a salire aggiungerei se Paul George dovesse andare via alla fine che ci ha esmenato un contratto di un giocatore che non vuoi più abnorme Prince che è in scadenza e due seconde che Kittel se le incula per quanto riguarda i Clippers ovviamente prendono Towns però con rischio poi di pagare un fottio della Madonna nei prossimi anni con un contratto obiettivamente molto oneroso quindi alla fine secondo me sarebbe George per Towns quindi l'attualità di Minnesota contro una futuribilità dei Clippers con comunque un contratto mastodontico da sostenere per quanto riguarda Minnesota si cerca di affiancare ad Edwards comunque un giocatore d'elite un giocatore veterano e mantenere un'ossatura difensiva comunque addirittura migliore rispetto all'anno scorso ovviamente ci sarebbe poi spazio anche per McDaniels in tutto questo e Minnesota più o meno cerca di rimanere a galla così diciamo per quanto riguarda i Clippers ovviamente ripeto prendono un lungo secondo me che serve uno scorer che serve e non lo so secondo me potrebbe essere una destinazione di Paul George potrebbe essere Minnesota dando Carl Anthony Towns ovviamente prima di continuare con gli altri trade qualcuno potrebbe chiedermi ma ma allora Chris Paul è una domanda lecita cioè nel senso ha senso a sto punto per i Clippers scambiare per Chris Paul sapendo che comunque hai un'idea di voler tradare Paul George cioè come dire prendi Chris Paul ma tradi Paul George cioè prendi un 38enne anche lui sempre infortunato ed è via un 33enne comunque che è al momento più forte e comunque più diciamo sulla carta Paul George sarebbe il numero 2 ai Clippers ha senso per i Clippers prendere Chris Paul a questo punto sapendo che c'è un'idea di tradare Paul George secondo me è per questo che i Clippers ancora non hanno preso Chris Paul manca una settimana esatta alla deadline per la scadenza di Chris Paul per non garantirgli tutti i 30.8 milioni ma solo 15 secondo me è questo perché i Clippers è per questo motivo che i Clippers ancora non hanno dato il via libera per la trade per Chris Paul perché appunto sono indecisi sono fortemente indecisi sul da farsi perché obiettivamente parliamoci chiaro prendere Chris Paul e tradare Paul George mi sembra un controsenso cioè a meno che scambi Paul George e arriva un altro un'altra superstar o comunque una grossa star allora dici va bene ok comunque sacrifico Paul George però arriva una star di rimpiazzo e aggiungo Chris Paul però se appunto tu facendo questa inquiry facendo questa questo sondaggio con le altre franchigie e gli altri ti dicono ma Rameo ti do al massimo scarti e una first round pick e ti inculi allora insomma diventa un po' complicato per i Clippers giustificare poi i 30 milioni e 8 di Chris Paul perché nel momento in cui i Clippers scambiano per Chris Paul quel contratto diventa garantito poi giusto? e di conseguenza sono cazzi ok? quindi quindi riperoni a meno che i Clippers vogliono fare la magagna di tagliare poi Chris Paul e poi rifirmarlo e rifirmarlo poi però vabbè detto questo e rifirmarlo poi nel senso più avanti detto questo andiamo avanti quindi questa potrebbe essere una potenziale trade una seconda potenziale trade ovviamente è dei Boston Celtics i Celtics che hanno sempre la magagna di Jalen Brown che anche lui è in scadenza a tutti gli effetti all'ultimo anno di contratto la stessa di Paul George in sostanza quindi sarebbe uno scambio uno a uno in questo caso però secondo me i Celtics non aggiungono pick perché parliamoci chiaro Jalen Brown è un giocatore di 26 anni 27 e Paul George è un giocatore di 33 anni e secondo me è più forte Paul George però voglio dire Jalen Brown è molto più futuribile Jalen Brown è più ovviamente più giovane più futuribile di conseguenza secondo me i Celtics non aggiungono nessuna pick e secondo me i Clippers sono diciamo più che ben voluti nel fare questo scambio hanno voglia di fare questo scambio quindi per me i Celtics non inseriscono niente e i Clippers non chiedono nulla cioè Paul George per Jalen Brown considerati i contratti e considerato ovviamente la futuribilità al momento suona come una steal quasi dei Clippers tutto sommato quindi lo scambio sarebbe ovviamente sbolognare i contratti più brutti che hanno i Boston Celtics quindi Brown Gallinari che ha accettato la player option un ritorno di Danilo e Clippers e il contratto ovviamente la team option di Pritchard per Paul George e Amir Coffey per liberare spazio a roster e vedrete spesso questa cosa ovvero ho inserito una terza squadra perché perché ovviamente i Clippers se vogliono scambiare Paul George cercheranno in tutti i modi di abbassare la tassa la luxury tax quindi il contratto di Harry Gordon non è garantito entro il 28 di giugno quindi se lo tagliano il contratto va a zero ok viene tagliato quindi sparisce dal monte salario quindi secondo me cercheranno una terza squadra per far che cosa per prendere asset dalla terza squadra quindi qualcuno ad esempio in questo caso Cody Martin il fratello di Caleb quello di Miami e poi l'altra squadra taglia Harry Gordon e recupera quello che ha sostanzialmente smenato quindi quale sarebbe la logica la logica è che gli Hornets danno via 7 milioni e mezzo di Cody Martin assorbono 20 milioni e 9 di Harry Gordon ma lo tagliano a zero quindi alla fine gli Hornets ci guadagnano pure a livello salariale siccome i Celtics devono dovrebbero scendere anche loro di tassa o sotto la luxury tax in questo caso verrebbe sacrificato il biennale di Derrick White per l'appunto con annesse le varie pick per facilitare lo scambio in modo che alla fine anche i Celtics comunque risparmiano una decina di milioni in questo caso e gli Hornets alla fine continuano il loro processo di rebuilding con sostanzialmente un biennale di Derrick White e tre pick al secondo giro tra l'altro il biennale di Derrick White non ricordo non ricordo nemmeno se è garantito al 100% oppure no adesso ve lo adesso ve lo dico no è garantito al 100% per 18 milioni e 8 vabbè quindi però vabbè alla fine è un biennale quindi tutto per gli Hornets si parla di almeno 3-4 anni di rebuilding al momento quindi secondo me Derrick White può andare lì onestamente poi lo traderanno più avanti la trade deadline ovviamente però l'ottica di questo scambio quale sarebbe i Celtics prendono un giocatore più diciamo fatto e finito e forse più compatibile con Tatum i Clippers si rilanciano con Jalen Brown e Kawai comunque pensano al futuro comunque nel senso ottengono una star indietro perché Jalen Brown ripeto noi lo consideriamo un pezzo di legno ma comunque è una star tutto sommato non è sicuramente una super giga mega star però comunque non è neanche Cusma per intenderci quindi secondo me questo scambio i Celtics vogliono vincere subito punto e quindi Paul George ha senso i Clippers probabilmente vogliono magari come dire assestarsi un attimo e ha senso anche per loro comunque poi rifirmano Jalen Brown i Celtics rifirmano Paul George e o magari poi lo perdono eccetera però alla fine anche Jalen Brown comunque potrebbero perderlo a zero perché se Jalen Brown non estende con i Celtics o comunque non rifirma con i Celtics lo perdono comunque a zero quindi alla fine a sto punto voglio dire prendono una versione migliore di Jalen Brown per lo stesso anno e vedono così come va tanto alla fine comunque o perdono Jalen Brown o perdono Paul George o rifirmano Jalen Brown o rifirmano Paul George terzium non datum insomma ok passiamo ovviamente a un'altra squadra molto chiacchierata che sono i Miami Heat perché sappiamo che Miami vuole Lillard fortemente però la notizia che appunto Paul George è sul mercato potrebbe comunque far pensare che Portland voglia Paul George e quindi che Lillard non sia più disponibile a questo punto i Miami Heat virano la loro attenzione su Paul George e ad un costo inferiore rispetto a Damian Lillard perché come vedete in questo caso si tratterebbe secondo me di semplicemente uno scambio di pick di quest'anno quindi i Clippers scelgono la 18 e Miami sceglie la 30 e poi appunto perché è un contratto quello di Paul George potenzialmente in scadenza si parla di una pick 2027 però protetta in top 5 che poi diventerebbe magari protetta 1-8 che poi diventerebbe protetta 1-10 per dire no quindi se nel 2027 Miami sceglie dalla 1 alla 4 dalla 1 alla 5 si tiene la pick altrimenti vai Clippers se la pick non viene girata si va al 2028 quindi se nel 2028 Miami sceglie che ne so dalla 1 alla 8 tiene la pick altrimenti vai Clippers nel 2029 se la pick non è stata girata dalla 1 alla 10 se Miami sceglie dalla 1 alla 10 si tiene la pick altrimenti va ai Clippers se poi la pick non è stata diciamo convertita entro i 3 anni vanno 2 secondi ai Clippers per dire no? una roba una classica roba che sappiamo tutti ok? quindi lo scambio in questo caso quale sarebbe? beh in questo caso credo comunque che i Clippers vogliano Hero credo che lo vogliano quindi lo scambio sarebbe l'Auri che comunque per quello che si è visto quest'anno cioè a quel contratto è immondizia in questo caso entrerebbe Hero o la Tipo è un annuale in questo caso accetterebbe la Player Option e comunque rientra da un infortunio quindi anche in questo caso diciamo semi-immondizia nel senso che comunque è in scadenza rientra da un infortunio è sempre infortunato quindi alla fine cioè i Clippers si dicono si ho capito però cioè l'Auri Pattume è immenso o la Tipo sempre spaccato almeno Hero me lo devi dare quindi Hero Jovic che comunque alla fine voglio dire Jovic non propriamente molto ben visto a Miami diciamo come prospettive come diciamo centro di rebuilding e comunque Miami vorrebbe vincere adesso dato che va sempre alle Conference Finals arriva alle Finals ma gli manca sempre qualcosina Paul George insieme a Butler e a Debaio potrebbe formare un terzetto difensivo soprattutto girato da Spelstra spaventoso e comunque Paul George ha punti nelle mani un po' come Van Fournier miste 20 punti nelle mani Paul George segna a differenza di Butler a differenza di Adebaio Paul George è uno che 25-26-27 li mette facili a serata quindi è un giocatore che a livello difensivo si sposa bene con Butler a livello offensivo sarebbe lo scorer che è quello che cerca Miami gli hit prendono due piccioni con una fava in questo caso secondo me comunque Irro sarebbe sacrificabile a questo punto si poteva mettere Duncan Robinson sì Irro non l'hanno voluto mettere con Bill perché aveva la no trade clause ripeto ma con Paul George comunque si parla di un giocatore che potrebbe non essere mosso ed è comunque doveva andare a Miami se l'offerta migliore la fa Miami quindi io credo che comunque tale Irro venga sacrificato in questa trade ovviamente siccome i Clippers riceverebbero troppi soldi mandano il contratto di Eric Gordon che comunque è un'altra shooting guard è un altro con punti nelle mani è un altro tiratore che serve a Miami secondo me in questo momento coffie per liberare spazio salariale e come detto prima ci sarebbe una pick swap diciamo per quest'anno ovvero i Clippers scelgono la 18 e Milwaukee va a scegliere scusate gli Heat vanno a scegliere alla 30 e in più ci sarebbe poi il giochino delle pick future perché è il giochino delle pick future perché comunque l'Auri o la Dipo e Jovic ne senso due scadenze un giocatore che deve ancora dimostrare di tutto e di più e semplicemente un pick swap ai Clippers le frega relativamente sarebbe sostanzialmente lo scambio Irro più ovviamente la 27 protetta o eventualmente la 28 eventualmente la 29 protetta o eventualmente due seconde quindi comunque Miami protegge la pick non è a parte quella del 2023 però Miami le future le protegge perché comunque vuole tenersi eventualmente quelle pick e se sfortuna vuole che Miami giri la pick ai Clippers comunque non si parla di una pick numero uno al draft in quel caso Miami se la tiene ok ripeto Paul George è in scadenza non si sa se rimane non si sa se rifirma non si sa che tipo di giocatore è però credo che Irro comunque in questo caso vista anche comunque la volontà di Miami di vincere e ci vanno sempre vicini ma non ce la fanno mai credo che comunque per accaparrarsi Paul George Irro vada sacrificato tutto sommato ora la prossima ovviamente parla dei New York Knicks della nostra squadra e anche in questo caso come vedete ho inserito San Antonio Spurs come squadra diciamo cesso per assorbire contratti non voluti da parte delle altre due franchigie quindi lo scambio sarebbe Paul George più Covington più Coffey più una scelta di quest'anno al secondo giro vanno ai Knicks ovviamente i Knicks declinano la team option di Dary Cross quindi risparmiano 15 milioni e mezzo in aggiunta a quelli che già risparmiano normalmente i Clippers ricevono Randall Mr. 20 punti nelle mani Hobbit Hoppin e tre prime e tre picca al primo giro però calma calma ecco scambi sempre i Knicks sei un hater no calma sono tre pic tutte protette tutte che probabilmente non vedranno mai i Clippers ok per quello le ho messe ok adesso vi spiego le protezioni di quelle tre pic così ci mettiamo subito d'accordo e per quanto riguarda San Antonio ovviamente prende il contratto di Harry Gordon che poi taglierà e libererà spazio però i Clippers aggiungono Graham e McDermott comunque Graham onestamente non credo sia nei piani di San Antonio e tra l'altro credo che il secondo anno di contratto non sia nemmeno garantito adesso ve lo confermo McDermott è in scadenza per quanto riguarda Graham invece no ce l'ha garantito a 12,6 no in realtà non è garantito è fully guaranteed l'1 luglio 24 quindi se viene tagliato prima dell'1 luglio quindi alla prossima off season va a salario solo per 2,8 milioni al posto di 12,6 milioni quindi alla fine è un annuale è un annuale a tutti gli effetti sostanzialmente per i Clippers quindi dove eravamo qua quindi alla fine Graham è un annuale a tutti gli effetti così come McDermott i Knicks sappiamo che vogliono scambiare rendolo comunque si parla di scambiare rendolo eccetera eccetera Furnia ovviamente è un contratto morto appeso per le palle tra l'altro mi pare che anche lui non sia un fully guaranteed l'anno prossimo quindi a maggior ragione va nell'ottica esatto è una team option per di più quindi addirittura potrebbe essere declinata la team option e di conseguenza è in scadenza e credo che sia nell'ottica dei Clippers ovviamente declinare il contratto di Fournier quindi alla fine per i Clippers di cosa parliamo parliamo di Randall poi parliamo di una scadenza di Fournier una scadenza di McDermott una scadenza di Graham un'estensione comunque di Toppin e tre pick al primo giro che però sono molto protette e ovviamente sono di squadre come vedete che tutto sommato poi se queste pick dovessero essere girate nel futuro si parla comunque di pick alte non si parla di pick 1, 2 o 3 al draft si parla di 16, 18, 20 cioè nel senso non di pick mostruose ok avete capito perché ho messo queste tre pick al primo giro perché comunque i Clippers alla fine prendono Randall e basta alla fine prendono Randall punto voglio dire e fine rimangono comunque tutto sommato profondi è vero dovrebbero liberare spazio a roster però chiaramente hanno tante scadenze quindi basta che non rifirmano altri giocatori tengono questi e chi si è visto si è visto quindi comunque prendono McDermott Graham che vabbè non è quello di New Orleans ok Toppin che comunque possono estendere possono portare avanti un giocatore comunque diciamo un discreto giocatore come Randall non un giocatore che mi fa impazzire anzi però tutto sommato è una certezza è un giocatore comunque che ha dimostrato che i suoi punti li mette è un giocatore che volendo sa anche passare la palla non è di certo Jokic lungi da me dire una cosa del genere però comunque può essere un giocatore un po' polivalente mettiamola così se ovviamente messo nella condizione e soprattutto se Kawali dà due schiaffi in faccia rimangono comunque lunghi profondi e quelle pick comunque chissà che magari nel futuro alla fine non si trasformino davvero in magari tre scelte che i creepers prendono al primo giro perché perché ve lo ve lo evidenzio allora la pick di Dallas è protetta 1-10 ok quindi essendo protetta 1-10 anche l'anno prossimo diciamo che Dallas è proiettata a non scegliere tra le prime 10 l'anno prossimo giusto quindi se dalla 11 alla 30 scelgono i New York Knicks in questo caso dalla 11 alla 30 sceglierebbero i clippers per quanto riguarda Detroit invece è protetta 19-30 cosa che invece ovviamente questa pick non la vedranno mai perché Detroit l'anno prossimo non sceglie dalla 20 in su dalla 19 in su scusatemi Washington l'anno prossimo ovviamente è protetta 13-30 quindi è protetta 1-12 ovviamente Washington l'anno prossimo è proiettata a scegliere nelle prime 12 quindi i clippers non la vedranno sta pick quindi potrebbe essere la pick di Dallas ok però ovviamente Dallas è proiettata comunque play-in play-off tutto sommato no di conseguenza sarà una 18 una 16 una 20 ok non parliamo di ovviamente lottery non parliamo di top 5 giusto quindi facciamo finta che nel 2025 Dallas l'ha già data la sua pick ai clippers e siamo a posto così Detroit è protetta 14-30 ora quindi 1-13 di conseguenza fra due anni è difficile che Detroit scelga fuori dalle prime 13 non credo che Detroit chiuda il rebuilding fra due anni quindi questa pick non credo che i clippers eventualmente la vedranno così come non credo che vedranno nemmeno quella di Washington che è protetta 1-10 giusto quindi andiamo al 2026 Detroit è protetta 1-11 quindi se Detroit sceglie dalla 12 alla 30 la pick va ai clippers mentre invece per quanto riguarda Washington si parla della 1-8 quindi se la pick va dalla 1 alla 8 sceglie Washington altrimenti dalla 9 alla 30 va ai clippers ok siccome non credo che nel 2026 Washington sceglierà mai dalla 9 alla 30 alla fine questa pick diventa una pick al secondo giro c'è scritto qua no quindi se Washington non gira la pick al primo giro entro il 2026 diventa una pick al secondo giro stessa cosa nel 2027 quindi sarebbe una second round pick nel 2026 e una second round pick nel 2027 quindi comunque due seconde a casa i clippers se la portano comunque tornando invece a Detroit se nel 2026 i detroit si è ancora tenuta la pick nel 2027 è ulteriormente protetta 1-9 quindi se Detroit sceglie dalla 1 alla 9 si tiene la pick anche nel 2027 se invece sceglie dalla 10 alla 30 scelgono i clippers altrimenti diventano anche qua pick al secondo giro come potete leggere qui sulla destra ora credo che Detroit considerando Cunningham la pick di quest'anno eccetera 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 probabilmente per il 2027 abbia finito di rebuildare a bestia e magari si stia affacciando in ottica playoff play in comunque quello che ha fatto Cloma City quest'anno per dirci quindi è possibile che nel 2026 o forse più magari diciamo con più speranza dei clippers nel 2027 quella pick va dai clippers quindi potenzialmente sarebbe potenzialmente se tutto va come deve andare sarebbe Randall scadenza di Fournier scadenza di McDermott scadenza di Graham estensione di Topping che comunque ha 25 anni pick 2026 o 2027 di Detroit che sarà ovviamente una 11 13 16 18 20 la pick dell'anno prossimo di Dallas che potrebbe essere una 18 20 e due seconde da Washington ok però ti porti a casa un trennale di Randall che tra le altre cose si sposa bene col contratto di Kawhi perché anche Kawhi ha lo stesso contratto di Paul George e comunque ti porti a casa una star qualcuno di fatto è finito se vuoi comunque continuare a puntare al titolo giusto sacrificando solamente Paul George per quanto riguarda invece San Antonio è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima quindi tagliano Harry Gordon Artenstein un annuale tra l'altro i Knicks non ho fatto a caso questo scambio i Knicks vanno sotto la tassa quindi andando sotto la tassa hanno la full non taxpayer mid level exception in questo caso quindi ai Knicks ho pure fatto un favore cioè vi rendete conto io che faccio favore ai Knicks cioè vi rendete conto dove siamo finiti giusto perché mi dite che sono un hater della nostra squadra dei Knicks gli ho pure fatto un favore pure sotto la sotto la tassa gli ho mandati con sto scambio pure sotto che volete di più Paul George più full non tax permit level exception libera che volete di più a scapito di tre pick al primo giro che manco alla fine saranno full tutte e tre al primo giro per di più potrebbe esserci una pick dei Knicks futura considerate queste tre pick sì però comunque i Clippers aggiungono tanta profondità al roster ulteriore comunque voglio dire erano già lunghi rimane Norman Powell voglio dire rimane Zubac vanno ad aggiungere ulteriormente tiratori vanno ad aggiungere point guard Westbrook potrebbe pure rimanere al minimo salariale a questo punto e quindi alla fine hai comunque una squadra secondo me profonda lunga certo Randall non è Paul George però comunque ti porti a casa almeno tre giocatori che secondo me in rotazione finiscono cioè Randall McDermott e Topping in rotazione ci finiscono sicuramente e Randall giustamente è il secondo violino diciamo così poi possiamo metterci le mani nei capelli ovviamente però se il tuo intento è fredare Paul George secondo me i Clippers potrebbero pensare a una cosa del genere ovviamente a livello di pic e quant'altro poi si può discutere però secondo me alla fine le tre pic che sacrificano i Knicks i Clippers potrebbero anche far comodo poi nel futuro ripeto io valuto Paul George come un giocatore in scadenza di contratto che i Clippers vogliono trade e soprattutto un giocatore spesso infortunato quindi la franchigia che va a prendere Paul George non offre di certo quattro pic al primo giro come hanno fatto per Durente i Suns perché comunque Durente è più forte e non era in scadenza Durente ha ancora tre anni di contratto quindi non è il rischio di Paul George che sostanzialmente è in scadenza come ben detto in apertura e sì e sì perché fino al primo di luglio 2023 c'è ancora il vecchio CBA e quindi i Warriors entro il primo luglio 2023 possono ancora assorbire più di quello che spendono più di quello che esce in questo caso ho rifiutato la player option di Dante Di Vincenzo in questo modo anche i Warriors risparmiano qualcosina pare che Di Vincenzo non voglia rimanere ai Warriors cerchi più soldi da qualche altra parte di conseguenza credo che rifiuterà la player option lo scambio qual è? Paul George e Covington per Jordan Poole Wiggins e Ryan Rollins che l'ho messo solo per liberare spazio salareale ai Warriors perché questo? perché dovrebbero farlo le franchigie? allora nonostante le parole del nuovo GM Mike Dunleavy Jr secondo me Poole è sul mercato lui ha detto che Poole vogliono tenerlo altri 4 anni che la lunghezza del contratto di Poole ma secondo me finché rimane Dreymond non può rimanere Poole e viceversa visto però la performance e il contratto ovviamente annesso di Jordan Poole della performance ai playoff dello scorso anno e il contratto ovviamente che se il giocatore dovesse continuare a performare in quel modo sarebbe un contratto ovviamente molto oneroso io credo che i Warriors possano esplorare questa alternativa ovviamente per forza di cose Wiggins è l'altro sacrificabile per forza di cose perché Clay non credo che lo mettano sul mercato e di sicuro non lo mandano ai Clippers con Kawai perché? perché se la dinastia deve finire finisce con tutti e tre secondo me non finisce con uno solo che se ne va anche se comunque Clay è di Los Angeles ovviamente il padre ha giocato per gli altri però per i Lakers però voglio dire alla fine parliamoci chiaro i Clippers prendono due quadri internazionali quindi contratti garantiti ok? contratti fatti e finiti giusto? i Warriors cosa prendono? un contratto uguale a quello di Clay Thompson perché Clay Thompson è in scadenza l'anno prossimo Paul George sarebbe in scadenza anche lui potrebbe fare come Dramon Green rifiutare la player option quindi in ottica Warriors sono scadenza di Clay Thompson e scadenza di Paul George prendono Covington che è scomparso dalle rotazioni dei Clippers e magari ai Warriors ritrova minuti non lo so questo però magari li ritrova viste anche comunque quanto i Warriors sono corti a livello di panchina potrebbe trovare minuti ovviamente Paul George è una versione migliore di Andrew Wiggins secondo me non è spaventoso dirlo però ovviamente c'è sempre il problema da infortuni c'è sempre il problema di essere disponibile poi quando conta ed è chiaro che Wiggins da questo punto di vista dia più certezza rispetto a Paul George però nel senso alla fine ripeto Poole è difficile da valutare perché comunque qual è cioè chi è Jordan Poole è quello di due anni fa quindi un giocatore chiave per la cavalcata titolo dei Warriors o è quello dell'anno scorso quindi un giocatore disastroso da ogni punto di vista panchinato ogni proprio ogni opportunità che 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 Poole dava Kerr lo panchinava immediatamente quindi chi è Jordan Poole è quello di due anni fa o è quello di quest'anno perché se è quello di quest'anno è un furto dei Warriors ma se è quello di due anni fa è un furto dei Creepers quindi è per quello che è molto latitante questa trade no? perché è vero abbiamo la certezza di Paul George abbiamo la certezza di Wiggins ok? sappiamo quello che porta sul tavolo ma non sappiamo quello che pette sul tavolo Poole non lo sappiamo è quello di due anni fa o è quello di quest'anno perché se è quello di due anni fa i Creepers si sfregano le mani hanno trovato veramente un contratto per i prossimi ovviamente salary cap abbordabilissimo un giocatore giovane nel ruolo che serve cioè play guardia perché i Creepers sono scoperti in quel ruolo parliamoci chiaro perché Paul George ormai è un 3 e non è più un 2 e ovviamente prendono Wiggins avrebbero Poole Wiggins e Leonard cioè parlando di profondità parlando di rimanere competitivi ripeto se Poole è quello di due anni fa i Creepers fanno forse più paura di prima per quanto riguarda i Warriors ci smenano comunque il Poole di due anni fa è un giocatore comunque che da quando è arrivato a Golden State ha fatto vedere grossissimi miglioramenti ha fatto vedere grossissima difesa grossissimo gioco sporco ed è stato un pezzo fondamentale per anche lui per la cavalcata al titolo dei Warriors due anni fa ovviamente parlo di Andrew Wiggins quindi per quanto riguarda i Warriors sarebbe un all-in sarebbe eventualmente poi qualora andasse male e Paul George poi non voglia rimanere alla fine perdi il contratto di Clay se se ne vuole andare e il contratto di Paul George in una botta sola quindi risparmi circa 90 milioni che comunque per i Warriors tutto sommato in ottica futura in ottica alla fine Clay se ne vuole davvero andare e in ottica alla fine Paul George non abbiamo vinto se ne vuole andare alla fine comunque liberi 90 milioni perché Clay ne prende 40 e Paul George ne prende quasi 50 come abbiamo visto prima quindi alla fine più o meno sono 90 milioni che l'anno prossimo vai a risparmiare e allora i Warriors potrebbero pensare di dirottare la propria visuale oppure di continuare comunque a essere competitivi in qualche modo scade pure Covington in quest'ottica quindi altri 11 milioni risparmiati cioè nel senso è vero che è una trade rischiosissima soprattutto per i Warriors però perlomeno hai tre scadenze che comunque ti vanno a liberare 100 milioni che voglio dire è praticamente tutto il salary cap e ovviamente manca quello che farà Draymond Green però anche se Draymond Green dovesse andare via arriva Paul George e allora diamine nel senso voglio dire è vero che Draymond Green è un pezzo fondamentale e secondo me senza Draymond Green non vincono quattro titoli e siamo probabilmente d'accordo tutti però ti consoli con Paul George nel senso va via Draymond ok però diamine Steph Clay e Paul George sulla carta se sani e voglio dire diamine sti cazzi e per di più ripeto i Warriors perdono due quadriennali quindi se Wiggins per qualche strano motivo non performa più bene e se Pull si conferma essere il cesso che è stato negli ultimi playoff i Warriors esultano perché dicono minchia abbiamo liberato 50 milioni di quadriennali per i prossimi quattro anni cioè nel senso sono comunque contratti che rimangono a roster e devi scambiarli ovviamente in questo caso ti levi pure la problematica di scambiare i contratti hai dato via Wiggins che non è più quello di prima perché ha visto i soldi e si è rincoglionito Pull ha visto i soldi e si è rincoglionito pure lui Paul George vuole il titolo vuole l'anello e quale squadra migliore per andare a vincere il titolo dei Warriors ovviamente oltre i Suns e ripeto vista la mossa di Bradley Bill da parte dei Suns è chiaro che squadre come i Warriors devono quantomeno andare sul mercato ovviamente la Luxury Tax sarebbe mastodontica pure sto anno ovviamente sarebbe una squadra proiettata comunque nella super tassa però se rifirmano pure Dremon Green magari a cifre meno impattanti un eventuale appunto resign però a cifre più modeste avresti Steph Clay Paul George e Dremon Green sti cazzi con Kevin Luna e comunque ha fatto vedere notevoli cose in questa run di playoff soprattutto contro Sacramento che vabbè però non possiamo tenerne conto perché Sabonis era la versione marcia della regular season a livello salariale si può fare poi fatemi sapere voi se ha senso o no secondo me non è così impossibile considerando poi anche il risparmio salariale che avrebbero i warriors se sia Paul George che Clay vogliono andare via poi l'anno prossimo potrebbero imbastire un doppio sign and trade che per Clay e Paul George potrebbe portare a casa qualcosina di interessante non ovviamente le madonne però comunque a livello di nomi sia Clay che Paul George qualcosa possono attirare a livello di sign and trade la prossima allora la prossima è sicuramente più fringe no è più diciamo difficile perché è più difficile perché ovviamente i nuggets andrebbero ad aumentare ulteriormente la loro tassa salariale visto che devono rifirmare Bruce Brown e a quanto pare Bruce Brown ha detto in un'intervista i soldi non sono tutto voglio rimanere qui a lungo termine può darsi che accetti la full taxpayer mid level exception o magari accetti una parte della taxpayer mid level exception detto questo la trade è quanto segue ora gli Spurs sono sempre a fare la puttana della NBA per quanto riguarda i contratti come Cloma City quindi l'ho messa solo per questo motivo però la trade è quanto segue quindi Paul George e due seconde vanno ai nuggets per Michael Porter Jr e Zeke Nagy in più ovviamente San Antonio da Cam Birch e Doug McDermott e San Antonio ovviamente per inserirsi come terza squadra assorbe Cancaro Man e la pick al secondo giro numero 40 dei nuggets e ovviamente il contratto di Harry Gordon quello da taglia eccetera più la 48 dei Los Angeles Clippers quindi i Clippers mantengono la pick numero 30 in questo draft prendono un giocatore da tanti punti nelle mani come Michael Porter Jr però ovviamente con tutti i limiti annessi riguardo alla situazione ovvero un giocatore injury prone e soprattutto un palo difensivo si comunque diciamo rallegrano con Zeke Nagy che è un centro di 22 anni che ha avuto poco spazio obiettivamente ai nuggets ai Clippers come secondo di Zubac potrebbe trovare un pochino più di spazio ed è comunque un rookie con la team option e quindi un contratto molto leggero 22 anni così come Michael Porter Jr è molto giovane quindi i Clippers aggiungono della gioventù della profondità sono comunque giocatori da rotazione però più giovani quindi se poi con Kawhi vogliono fare la stessa cosa di Paul George hanno comunque un giocatore con 4 anni di contratto come Michael Porter giovane si spera che gli infortuni li abbia messi alle spalle e comunque ti porti a casa un giovane quadriennale quindi un contratto sicuro per una scadenza di Paul George e poi sarà compito dei Nuggets ovviamente vedere se Paul George vuole rimanere e vuole firmare lungo termine oppure se se ne va e quindi i Nuggets ci hanno smenato Michael Porter Jr però visto il titolo di quest'anno visto ovviamente la mossa di di Phoenix è chiaro che se Denver vuole confermarsi Paul George è un upgrade di gran lunga rispetto a Michael Porter Jr sotto tutti i punti di vista magari non dal punto di vista dello scoring però voglio dire Marry KCP Paul George Gordon Jokic fai ancora più paura dei Suns ma di gran lunga fai più paura dei Suns poi vogliamo aggiungerci una pick futura dei Nuggets magari un pick swap eccetera magari sono stato troppo troppo col braccino magari ho dato possiamo togliere queste due seconde tra l'altro ho messo due pick swap originariamente c'erano due pick possiamo possiamo rimettere come originariamente avevo pensato quindi con sostanzialmente Paul George più due pick swap ovviamente con i Clippers che scelgono meglio dei Nuggets e le due pick dei Nuggets poi andrebbero ai Clippers ovviamente i Clippers hanno la facoltà di scambiare la pick ovviamente più convenevole con quella dei Nuggets quindi se i Nuggets nel 2028 scelgono alla 1 i Clippers dicono mia grazie quindi potrebbe essere così diciamo che così ha più senso anche perché comunque se Denver vuole farlo all in definitivo alla fine due pick swap alla fine non le perdono le pick comunque scelgono quindi le pick non le perdono però è chiaro che se nel 2028 e 29 i Nuggets sono inguaiati i Clippers dicono mia grazie mia grazie e quindi i Nuggets scelgono comunque più in alto rispetto a dove dovrebbero essere però ovviamente per i Nuggets è un cementare la superiorità a ovest cioè il quintetto sarebbe spaventoso parliamoci chiaro Marry KCP George Gordon Jokic sarebbe un terzetto bestiale per quanto riguarda i Clippers a questo punto avendo inserito le due pick swap si parla di Michael Porter Jr di Najee di McDermott e Birch quindi comunque sempre profondi sempre con comunque giocatori da rotazione presi a questo punto eventualmente due pick molto alte se i Nuggets ovviamente nel futuro dovessero fare schifo però ti porti a casa due pick anche molto favorevoli dipende ovviamente dai Nuggets poi se i Clippers scelgono alla 1 ovviamente si tengono la pick nel caso Nuggets vincono tre titoli di fila nel 28-29-30 e ovviamente i Clippers mi tengo le mie a posto così però almeno ti sei portato a casa due giovani cerchi di ringiovanire il roster cerchi di pensare al futuro e ovviamente sacrifichi Paul George che vuole vincere il titolo e ai Clippers ovviamente in questo momento non c'è la possibilità di vincere almeno sulla carta per gli Spurs sono sempre i soliti discorsi ora andiamo ovviamente nella grande squadra chiacchierata ovvero i Portland Trailblazers perché a questo punto è chiaro che se Paul George è libero e Lillard vuole questo questo squadrone a Portland è normale che Paul George sia nel mirino della della franchigia dell'Oregon e secondo me lo scambio diretto e non bypassabile è sign and trade ai Clippers per Jeremy Grant però dovrebbero scendere sotto la luxury tax che è molto difficile però voglio dire sarebbero arcappati no in realtà neanche si neanche si può fare a dire il vero rip proprio quindi manco col sign and trade Jeremy Grant sarebbe solo Simons perché Grant non può fare sign and trade perché diventerebbero arcappati e non possono arcapparsi quindi Grant non sarebbe nemmeno in questa trade Grant non sa bene me ne sono accorto adesso scusate ma ho fatto le cose di fretta perché tra il trasloco e gente che continua a venire a vederla a casa e chi più ne ha più ne metta è veramente uno scassamento di palle unico non sto mai in pace quindi ho fatto le cose di fretta e nada cioè Jeremy Grant non può non può andare per per sign and trade e quindi sono sono uccelli per diabetici praticamente e ci aggiungiamo una Seer Little che dobbiamo fare e Grant non può andare in sign and trade ai Clippers perché appunto i Clippers sarebbero sarebbero arcappati ma non possono essere arcappati quindi credo che alla fine una trade possa essere questa a questo punto corretta io non credo che si muova la 3 non credo che mandino la 3 ai Clippers i Clippers non se ne fanno quasi nulla a meno che i Clippers non ripartano veramente da zero allora in quel caso la pick 3 va a volo ai Clippers però onestamente per un giocatore in scadenza di un anno mi sembra allucinante e pensare una roba del genere quindi possiamo inserire un pick swap nel 29 possiamo inserire una non protetta nel 2027 possiamo fare così insomma perché ovviamente togliendo Grant succede così non lo so è dura è molto dura senza Grant dentro appunto perché i Clippers non possono arcapparsi è impossibile cioè letteralmente Grant non può andare a non può andare a Los Angeles o c'è una terza squadra che si accolla il silent trade di Grant e ai Clippers arriva qualcosa di importante comunque un giocatore interessante oppure non saprei cioè sicuramente Simons è dentro perché i Clippers vogliono un play Grant non ci può entrare la 3 mi sembra troppo io non credo che i Blazers rinunciano alla 3 per un contratto in scadenza come Paul George alla 3 ci rinunci per un contratto pluriennale un triennale un quadriennale cioè un giocatore sicuro cioè sai che rimane per tanti anni non vai a speculare sulla volontà del giocatore in un NBA come questa quindi per me la 3 non la muovono per Paul George se lo fanno ripeto Adamo col Napalm proprio cioè Vietnam Levati e io credo che più realisticamente possa essere Simons più Little più la 23 più una non protetta nel 27 che è quando va via Lillard perché quando scade Lillard tra 4 anni Paul George potrebbe già essersene andato e quindi poi quella Picli di Portland può essere veramente interessante ad esempio e poi i contratti sono sempre gli stessi però ripeto secondo me i Clippers quel contratto di Eric Gordon vogliono metterlo da qualche parte soprattutto appunto per la per le facilitazioni a livello di tagliare poi il contratto di sfancularlo nel insomma a sfancularlo dato che la franchigia che lo prende poi perde 0 sostanzialmente tagliandolo quindi è un favore che i Clippers vanno a prendere e comunque contratti fatti e finiti e mentre invece la squadra che prende Eric Gordon lo sfancula ripo arrivederci ciao baci abbracci non so magari anche qua si può aggiungere un'altra picca al primo giro perché comunque Nassir Little bah Simons bah la numero 23 ok però ovviamente non è una pic 10 8 9 la pic 27 però è molto interessante ripeto Paul George ha un contratto in scadenza tutto sommato quindi cioè il valore di Paul George non è altissimo prendiamoci chiaro però si se vogliamo considerando che è Portland considerando che tanto la fesseria la fanno mettiamo la non protezione facciamo così dai facciamo facciamo tre prime Simons e Nassir Little per Paul George dai tenendola a tre quindi avendo comunque a disposizione un eventuale sign and trade Grant più la tre se vogliono andare in quella direzione e lì poi possono arrivare cose veramente interessanti veramente cose parecchio lussuriose mettiamola così e ovviamente Portland con Lillard e Paul George si rilancia a livello di contendership si rilancia a livello di appunto di emergere a Ovest avrebbero ancora spazio salariale per poter fare cose ci sarebbe ancora Nurkic da sfanculare e sacrificano tre pic al primo giro però a sto punto se vuoi se vuoi convincere Lillard che si stavolta siamo seri nel darti una squadra che vince e allora vaffanculo sacrifica ste cazzo di pic per quanto riguarda i Clippers ovviamente arrivano tre pic al primo giro che si leccano le dita secondo me Simons comunque una PG giovane Nasir Little un altro giocatore giovane due scadenze come McDermott e Birch sacrificano il contratto di Gordon e quello di Covington tanto uscito dalle rotazioni e danno anche una seconda agli Spurs per andarsene a fanculo mentre invece ovviamente per il touching qualcosa da San Antonio andare a Portland e viceversa non lo so considerando questo mercato NBA e considerando alcune franchigie le follie sono dietro l'angolo però Paul George è un contratto in scadenza cioè io voglio puntellare questo questo discorso cioè possiamo raccontarci tutte le favole che vogliamo ma Paul George è un contratto in scadenza per un giocatore spesso infortunato quindi cioè io non so quanto valore a livello di multiple first round picks ci sia non è il Paul George che da Oklahoma City va ai Clippers un Paul George di 28 anni nel pieno del prime terzo nella corsa MVP e potenziale defensive player of the year qui si parla di un Paul George 33enne cioè ripeto non è la stessa cosa soprattutto visto il contratto visto la durata e vista la tipologia di contratto se avesse due anni sicuri quindi senza player option è un altro discorso ma siccome c'è quella player option si abbassa ancora il valore perché lui poi dice no rifiuto me ne vado saluti abbracci non rifirmo fottetevi e cazzo la franchigia ci ha smenato 3-4 pic al primo giro per un giocatore che sta un anno e se ne va non è un rischio che credo che molte franchigie si accolgono i Blazers sono l'unica secondo me che dà via 3 pic al primo giro non protette ovviamente spero non sia la 3 perché se danno via la 3 ripeto Adamo è pronto con la Moab sopra c'è già il dirigibile sopra Portland e in caso dovesse arrivare l'ufficialità Adamo non potrebbe far altro che premere il pulsante rosso e poi vabbè si parlerà di Las Vegas tra il Blazers nel 2025 ora tornando a una delle mie vecchie associazioni su 2K i Cleveland Cavaliers hanno gli asset secondo me per intromettersi in questa trade perché? perché Paul George è un tipo di giocatore che vogliono che cercano di cui hanno bisogno l'unico problema anche in questo caso sarebbe il Siren 3 di Karis Levert perché ve lo segnalo perché anche in questo caso i Clippers non possono pigliarsi Levert perché? perché sarebbero arcappati e sono sopra l'arcap quindi anche per Levert non si può fare sta cosa qui quindi rip anche per Karis Levert giusto? giustamente quindi che si fa? che si dice? che si dice? niente Levert dovrebbe andare a una terza squadra ovviamente e quindi che succede? succede che ad esempio Rosier potrebbe andare tornare ai Clippers potrebbe andare ai Clippers e Levert sarebbe mandato in sign and trade per la stessa cifra facciamo 23 milioni alla fine è quasi certo che prendano Brandon Miller io credo che Levert ha più di 23 milioni facciamo 26 va là dai sono buono regaliamo gli soldi però io non credo che Levert vada più di 25 26 milioni obiettivamente parlando e io credo che tutto sommato sia plausibile una cosa del genere Rubio è un anno che lo vediamo in campo ovviamente Allen sarebbe il centro migliore di Zubac secondo me con Zubac che esce dalla panchina Okoro è il tuo giovane diciamo comunque la tua garanzia futura di gioventù Rubio diciamo che comunque la tua point guard di riserva o point guard titolare sperando che rientri bene però in questo caso sono tutte seconde cioè non è un po' come la trade per Bill Criveland in realtà ci avrebbe la 24 ma non può scambiarla perché non c'è il pick swap né da una parte né dall'altra e quindi questo 2024 non può essere scambiato se non nel 2024 però se vogliamo fare proprio la totale pazzia sono tutte seconde quindi letteralmente sarebbero 8 seconde 9 seconde che è quello che hanno fatto i Suns per Bill hanno mandato Paul Shamet 6 seconde e Criveland farebbe la stessa roba ti do tutte le seconde che ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 seconde che è diverso da dare tra i primi ad esempio 9 seconde sono decisamente inferiori a livello di valore quindi Rosier giocatore inguardabile però è qualcosa Allen sicuramente un buon centro Okoro è il rimpiazzo di Paul George giovane sperando che abbia margini di crescita Cody Martin sempre per il solito discorso di Eric Gordon Rubio comunque prima dell'infortunio secondo me è sempre stato un ottimo playmaker soprattutto dalla panchina quindi ai Clippers potrebbe pure partire titolare onestamente e Rosier uscire dalla panchina ti porti a casa tutte le pick possibili immaginabili comprensibili nella faccia dell'umanità a Cleveland vanno Paul George e sempre Covington perché ovviamente perché è così e per quanto riguarda gli Ornets prendono Sam Merrill una seconda da Golden State e sì ciao da Cleveland via Golden State e in più si accollano le Vert mandando ovviamente Cody Martin e Terry Rosier e per quanto riguarda Eric Gordon sempre il solito discorso lo tagliano e vaffanculo mentre i Clippers invece mandano la pick numero 48 come contentino agli Ornets alla fine gli Ornets che ci smenano niente perché Rosier è il nulla Cody Martin è il nulla e alla fine liberano pure soldi è vero le Vert tramite sign and trade ma tanto l'hard cap agli Ornets se ne sbattono le palle e le Vert comunque a fianco a Lamelo e Brandon Miller che pare essere oramai la scelta numero 2 e comunque è la guardia titolare quindi alla fine hai Lamelo Le Vert Brandon Miller e poi vedrai che cazzo fare con il resto della squadra però comunque hai la guardia hai il 2 a fianco a Lamelo e a fianco a Brandon Miller quindi avessi 1, 2, 3 sono fatti per quanto riguarda Cleveland ovviamente è un all-in l'ennesimo dopo quello per Donovan Mitchell però vedendo come sono usciti l'anno scorso e vedendo le carenze da quel punto di vista secondo me a questo punto Paul George è veramente un giocatore che potrebbe servire tra l'altro Cleveland è 7 milioni e 2 sotto la tassa in questo modo quindi avrebbero la full non taxpayer mid-level exception e comunque anche qua alla fine se Paul George se ne va chi ha ismenato Allen e Okoro e vabbè tutte le seconde però voglio dire Okoro non mi è sembrato proprio un grande prospetto e quando lo scelsero lo dissi dissi secondo me Okoro o è un fenomeno della Madonna o è un bust della Madonna per il momento mi sembra più la seconda Jared Allen per carità va bene però voglio dire se arriva Paul George Jared ti voglio bene tanto c'è Evan Mobley che secondo me senza la presenza di Allen potrebbe avere un ulteriore sviluppo a livello di ring protection a livello anche di tocchi in fase offensiva a livello di giocare pick and roll dato che era una prerogativa di Allen in quella Cismeni Rubio che alla fine comunque ha già detto anche lui che a fine contratto se ne va se ne torna a casa perché ha detto che vuole badare al figlio ai figli non so quanti ne ha quindi alla fine è un giocatore perso lo stesso e vabbè e tutte le seconde vabbè magari non sono tutte le seconde magari sono 3 in meno sono 4 in meno non lo so però ovviamente però ovviamente nel senso qualche seconda ci va almeno 5 seconde ci vanno se per Bill ne sono servite 6 almeno qui ne serviranno 4 forse ho esagerato anche qui però per farvi capire appunto che qualche seconda magari ho esagerato avete ragione anche voi leviamo quelle che non sono di Cleveland lasciamo solo quelle di Cleveland e basta facciamo così quanti sono 5 1 2 5 dai 5 seconde più Coro più Allen più Rubio e per Paul George potrebbe anche starci e per quanto riguarda gli Hornets ne ho già parlato per quanto riguarda Cleveland sarebbe comunque una squadra migliore di quella che attualmente quindi chissà chissà per quanto riguarda Cleveland si parla di Houston però io onestamente non so non lo so non chiedetemelo non lo so che cazzo di scambio deve fare Houston cioè mette in mezzo Jabari Parker no non Jabari Jabari Parker no per fortuna non c'è Jabari Parker intendevo Jabari Smith non credo mette in mezzo Jabari Smith cioè nel senso alla fine Houston non ha contratti cioè il contratto più grande che ha è il non garantito pluriennale di Kevin Porter Junior e basta cioè nel senso fine io credo che se questo cioè che se Paul George viene mandato a Houston io credo che mandano tutti i giovani che hanno ma tutti tranno ovviamente i due top che sono Green e Jabari Smith e io poi non credo nemmeno che tra l'altro rimandano indietro la pick dei Clippers per di più io poi non so onestamente se vanno anche pick future cioè nel senso i Clippers letteralmente si rifanno una squadra giovane più la pick e i Clippers alla fine danno via un contratto in scadenza cioè nel senso io non so se volano via altre pick al primo giro magari vedendo il pacchetto si magari vola via la 25 pure va là tanto hanno quella di Ocroma City o Brooklyn quindi può volare anche la 25 e la 26 non può volare perché non ce l'hanno magari va via la 27 va là tanto alla fine quello che torna è quasi il nulla giusto? forse è meglio così ripeto fatto di fretta anche perché sono veramente in questo periodo sono pieno di robe da fare tra scatoloni gente che continua a venire a vederla a casa perché devo traslocare quindi ovviamente la proprietaria di casa deve rivenderla deve rimettere in affitto quindi fa venire costantemente gente io ogni giorno sembro letteralmente un cazzo di portiere nel senso che apro e chiudo le porte faccio tour della casa eccetera vabbè devo sempre ovviamente tenerla in ordine bla 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 e quindi letteralmente sono proprio sommerso in più c'è sta cazzo di notizia dal nulla sto Stein figlio di puttana che dal nulla mi tira fuori Paul George i Clippers lo vogliono tradare o comunque stanno chiamando stanno cercando offerte per Paul George sto figlio di Trump da farsi i cazzi suoi giusto giusto adesso che sono proprio all'orlo della crisi isterica arriva sto stronzo mi dà sta notizia scusatemi ragazzi davvero magari questo video è stato un po' all over the place mi rendo conto chiedo ovviamente scusa per la bassa qualità magari di questo video cercherò di essere meglio però in questo periodo davvero è un tour de force incredibile quindi che cazzo se ne fanno a fare i Rockets di Paul George considerato che Arden a quanto pare rimane a Philadelphia notizia degli ultimi giorni bevo un attimo scusate notizia degli ultimi giorni pare che Arden oramai sia quasi sicuramente convinto a rimanere a Brooklyn scusate tifosi Nets no in realtà i tifosi Nets lo odiano è quasi sicuramente costretto a rimanere a Philadelphia tutti gli insider tutti i rumor lo danno al 100% a Philadelphia con una team friendly sign quindi con una firma che ovviamente va incontro alla franchigione quindi sarà una firma a forse la metà di quello che prende adesso o 10 milioni in meno di quello che prende adesso comunque una firma che va incontro alle richieste della squadra e quindi che cazzo se ne fanno i Rockets di Paul George cioè ma ma scegliere sta Benedetta 4 e non rompere i coglioni sti Rockets no eh no per forza dobbiamo andare a prendere Paul George io onestamente non so che trade sia quella per Paul George a Houston se mai capita se muovono Jabari Smith o Jalen Green peggio ancora per me Adamo sposta il dirigibile da Portland a Houston tanto è un attimo non è un grosso viaggio e potremmo avere una situazione apocalittica anche a Houston e probabilmente parlare dei Cincinnati Rockets tra un paio d'anni ultima trade di questa epopea con 50 oggi fa un caldo della madonna pure oggi cioè doveva aspettare giusto vabbè lasciamo per scusate per queste cose extra video gli Atlanta Hawks perché comunque gli Atlanta Hawks hanno gli asset sotto sotto zitti zitti Tommy Tommy hanno gli asset tutto sommato per arrivare a Paul George quindi secondo me lo scambio potrebbe vertere a favore dei Clippers per di più Collins che finalmente lo scambierebbero dai parliamoci chiaro finalmente porco Diaz arriva sto cazzo di scambio per Dejonte Marry che è in scadenza quindi anche qua attenzione non è detto che rimanga ai Clippers Okongwu comunque è il giovine diciamo di garanzia che andrebbe ai Clippers la pick 15 che alla fine ad Atlanta se arriva a Paul George che cazzo gliene frega e poi ovviamente la pick di Sacramento ricordando che la pick di Sacramento degli Atlanta Hawks è protetta 1-14 quindi se l'anno prossimo Sacramento sceglie dalla 1 alla 14 se la tiene altrimenti va ad Atlanta in questo caso ovviamente andrebbe ai Clippers siccome probabilmente Sacramento l'anno prossimo non sceglierà dalla 1 alla 14 quindi magari va ai play-in o va come ottava ai play-off almeno potrebbe succedere questo quella pick potrebbe finire ai Clippers quindi i Clippers prenderebbero una 15 e magari una 17 una 18 più Kongwu più Murray più Collins per Paul George però i Clippers mandano la pick 30 di quest'anno agli Atlanta Hawks quindi alla fine scambiano la 30 con la 15 e in tutto questo che ho messo come nostri salary dumper ho messo i Thunder stavolta i Thunder che mandano una pick al secondo e Kerry Williams ai Clippers dato che Kerry Williams ha un quadriennale ovviamente i Thunder assorbono il non garantito di Garrison Matthews e il non garantito di Eric Gordon e due seconde per facilitare lo scambio quindi Thunder continuano ad assorbire pick al secondo giro tra l'altro i Thunder mandano la pick 50 di quest'anno quindi sostanzialmente fanno trade up al secondo giro passano dalla 50 alla 46 e alla 48 quindi aggiungono ulteriormente pick al draft di quest'anno sacrificando poi la pick dell'anno prossimo del 2024 quindi perché per i Clippers ha senso beh i Clippers comunque ricevono Dejounte Murray che secondo me senza Trae Young a rubargli i possessi può essere un giocatore che la versione diciamo quella di San Antonio prima dello scambio quindi il Murray di due anni fa Collins finalmente lo vediamo in un'altra squadra senza che ci rompano i coglioni e Okonwu è il giovine che comunque lo metti dietro a Zubac o davanti a Zubac e lo fai crescere in più la pick 15 che comunque è un altro giocatore a roster la pick dell'anno prossimo eventualmente un altro giocatore a roster scendi di Luxury Tax in tutto questo e comunque riparti con un futuro perché Okonwu Murray e Collins sono giocatori giovani la 15 è un altro giocatore giovane la pick dell'anno prossimo è un altro giocatore giovane per quanto riguarda Atlanta ovviamente sarebbe probabilmente un upgrade nel senso che avresti Troione Hunter Bogdanovic Paul George Capela quindi comunque anche a livello difensivo avresti un'ancora difensiva notevole scegli comunque la 30 quindi comunque un giovanotto te lo prendi indietro hai sempre Sadik Bey hai sempre Jalen Johnson hai sempre AJ Griffin quindi comunque la tua diciamo gioventù te la tieni intatta per quanto riguarda i Thunder vabbè solito discorso per quanto riguarda ovviamente gli Atlanta Hawks qualcuno potrebbe dirmi sì ma sacrificano tanto allora Dejante Murray è in scadenza non è detto che rifirma Okonwu ok però non è che da quando sia ad Atlanta ha fatto vedere chissà che cosa Collins lo vogliono sfanculare da 4 anni cioè veramente basta anche i muri lo sanno che non lo vogliono più in quella squadra di merda quindi alla fine secondo me voglio dire e qualcosa lo devi dare per Paul George certo va bene tutto però voglio di Collins praticamente non ce lo possono più vedere quindi è gratis sostanzialmente pigliatelo proprio tienitelo non lo voglio più vedere ok cheat non lo voglio più vedere cheat Murray è la contropartita tecnica quella importante la 15 è il contentino Okonwu bah e la pick dell'anno prossimo boh cioè nel senso boh potrebbe anche non essere data perché ripeto poi diventa protetta 13-30 ok nel 2025 poi diventa protetta 11-30 nel 2026 però magari Sacramento non fa più i playoff e quindi quella pick se la tiene pure gli anni successivi quindi se la pick viene girata l'anno prossimo è da una 16 in su da una 15 in su che voglio dire alla fine tutto sommato ci sta dai parliamoci chiaro quindi queste erano tutte le trade che ho in mente per vabbè ovviamente poi tutte le trade diciamo quelle che penso io poi sicuramente non saranno punto se azzecco punto per punto una trade soprattutto a 3 vabbè mi spoglio e inizio a fare i video nudo ovviamente con le parti basse in bella mostra però queste sono diciamo le trade o comunque squadre che penso in cui potrà andare Paul George le più realistiche tra tutte queste secondo me ve lo dico subito sono Miami New York Golden State quindi siamo a 3 e Cleveland 4 quindi queste 4 per me sono le più fattibili a livello di senso di a livello di ovviamente di contropartite tecniche e livello di fit nelle squadre in cui va quindi le 4 più plausibili sono ripeto Miami non in ordine Miami New York Golden State Cavaliers queste sono le 4 più plausibili secondo me fatemi sapere cosa ne pensate allora di questa epopea secondo voi Paul George verrà mosso e se si dove e per chi io vi ringrazio di salute ci vediamo in prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti